A Rutino è iniziata una quattro giorni di eventi all'insegna della tradizione, della storia e della fede per San Matteo e per il patrono, San Michele Arcangelo. Ieri il primo appuntamento. Sono giunte in città le reliquie di San Matteo. L'accoglienza è avvenuta in un luogo simbolo del rapporto tra Rutino e San Matteo, l'antica fontana. La storia risale a 954. Secondo la tradizione, durante la traslazione del corpo dell'apostolo da Casalvelino a Capaccio, i suoi portatori, stanchi e assetati, si fermarono alle porte del paese. Nei dintorni non c'era acqua, ma all'improvviso, da una roccia sulla quale era stata appoggiata la reliquia, scaturì una polla d'acqua fresca e cristallina. E proprio lì, oggi, sorge una fontana, completamente riqualificata. Grandi personalità presenti all'evento. Tra questi, il Vescovo di Vallo della Lucania, Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero, Corrado Matera, assessore regionale al turismo e beni culturali, oltre ai sindaci del territorio. Gli appuntamenti proseguiranno questa sera con una rievocazione storica dedicata al Miracolo della Fontana, scritta e diretta da Gaetano Stella. Presenti circa 60 figuranti. Sabato, invece, il centro cilentano sarà protagonista del Tg itinerante di Rai 3. Infine, domenica 12 maggio, come da tradizione, è in programma Il Volo dell'Angelo, una rappresentazione della lotta tra il bene e il male, tra San Michele e il diavolo. Guardi, noi abbiamo puntato molto sul turismo religioso, i cammini dell'anima, i quattro percorsi mariani, micaelici, dei santi e dei riti religiosi. Le dico anche che il progetto comprende anche il cammino di San Matteo, questo percorso che interessa il cilento e che si conclude a Salerno. Nei prossimi mesi ci sarà un'altra azione attraverso la quale proveremo anche a mappare questo percorso al fine di attrarre flussi turistici importanti. Io sono convinto, e questa è l'azione che stiamo mettendo, che abbiamo messo in campo in questi anni, che è la diversificazione dell'offerta turistica. La vera occasione, la grande occasione per dare forza alla Campania nella sua interezza. Le aree interne hanno un patrimonio vasto che comprende il balneare, l'eno gastronomico, il culturale, il religioso e ancora altro. Il problema però è creare questo collegamento con i grandi centri perché è chiaro che i grandi attrattori, le grandi città riescono ad attrarre maggiormente flussi turistici importanti. Creare degli itinerari come questo però sono le occasioni per far conoscere anche le aree interne che, come le dicevo prima, hanno tante potenzialità. Sì, è tratto di quel percorso che fecero le spoglie mortali per poter raggiungere poi Salerno. Si fermarono poi nell'antica cattedrale di Capaccio, attualmente il santuario del Granato, e poi da lì per Salerno. Questo collegamento è l'occasione per ricordare e nello stesso tempo anche per vivere oggi la nostra vita come un pellegrinaggio. Su questo vogliamo riflettere particolarmente, in modo che nel pensare al percorso che fece San Matteo, ma nello stesso tempo anche nel pensare come quel corpo così importante per noi è un apostolo, è un evangelista che ci ha raccontato di Gesù. Quelle ossa sono state custodite per tanti secoli nella nostra terra cilentana e poi per essere portata più al sicuro hanno raggiunto la sede di Salerno. Adesso stiamo riprendendo questo cammino per dire a noi stessi che la vita è un pellegrinaggio e lo dobbiamo affrontare bene, senza lasciarci scoraggiare dalle difficoltà che possiamo trovare lungo la strada. Tenere bene in mente la meta e la meta nella vita di ciascuno di noi è il bene che è chiamato a fare e a raggiungere, per poi con la forza che il Signore ci dà, con il Vangelo che è la nostra forza, camminare sempre nella via del bene, costruendolo insieme. La Fontana di San Matteo la rendiamo, come dire, visitabile al pubblico dopo, riteniamo, 150-200 anni, perché di fatto la vera Fontana di San Matteo era chiusa da un muro che realizzato, come dicevo prima, 150-200 anni fa e quindi il pubblico non ha avuto mai la possibilità di ammirare davvero la Fontana nella sua veste originaria. Oggi noi rivedremo, vedremo per la prima volta noi la Fontana nella sua veste originaria, avremo modo di apprezzarne l'architettura ma soprattutto di apprezzarne il significato e la storia. Cosa può rappresentare la Fontana per un turismo prossimo futuro? La Fontana di San Matteo a Rutino rappresenta innanzitutto il segno tangibile del passaggio delle reliquie di San Matteo, perché nel percorso delle reliquie di San Matteo, Ascea, Belia, Casalvelino, Rutino, Capaccio, Salerno, Rutino è l'unico luogo dove rimane ancora oggi, dal 954, quindi dopo oltre mille anni, ancora oggi il segno tangibile del suo passaggio con questa Fontana e quindi riteniamo che nel percorso della via di San Matteo, che tra l'altro è sponsorizzato anche da Regione Campania, questa Fontana possa rappresentare un significativo luogo di interesse e di culto.